Per le scelte definitive in Casa Pescara ci sarà ancora da aspettare, ma questa resta una fase delicata per tanti club che pianificano la nuova stagione e cercano partner e risorse per quantificare il budget da poter riversare sul mercato e ridisegnano anche il management sportivo. Per il ruolo di direttore non sembra esserci spazio per un ritorno di fiamma in Casa Pescara dell'ex sportiere Ciro Polito, il quale appena ieri a sorpresa ha risolto il contratto con l'Ascoli firmato lo scorso dicembre e che si sarebbe rinnovato per altre due stagioni dopo la salvezza raggiunta dal picchio. Polito è destinato a ricostruire il Bari di De Laurentiis, reduce dalla eliminazione playoff. Il nome di Polito mesi fa era stato accostato al Delfino, qualora una accordata lombarda avesse rilevato le quote di maggioranza del club biancazzurro, poi non se ne fece nulla e Polito firmo per l'Ascoli. A proposito di società, nei prossimi giorni si capirà se l'ex presidente Angelo Renzetti potrà avere o meno un coinvolgimento nella ripartenza del Pescara. L'iter formale della cessione delle sue quote del Lugano Calcio, c'è l'accordo per il passaggio del 60% ad una accordata italo-brasiliana, non è ancora completato, ma come ha fatto sapere lo stesso Renzetti, entro martedì potrebbe arrivare l'ok della Lega Calcio Svizzera che deve approvare l'operazione. Dopodiché Renzetti resterà per un po' di tempo presidente di facciata del club ticinese, ma appunto non più proprietario. Insomma, settimane calde per il riassetto dirigenziale del Delfino e una volta che i quadri saranno definiti inizieranno le altre grane legate all'allestimento del prossimo organico. Quali dei giocatori sotto contratto, in particolare di quei dieci che hanno chiuso la stagione nell'orbita della prima squadra, resteranno? Se si potesse il Repulisti sarebbe il piano principale, ma i contratti ci sono e sono anche onerosi, ecco perché la società ha già annunciato che Memushay resterà dopo aver rinunciato ad una mensilità. Poi toccherà vedere che ne sarà dei vari Fiorillo, Scognamiglio, Sorensen, Drudin, Zittà, Masciangelo, Valdifiori, Busellato e Galano. Ragionare in base alle offerte che arriveranno e se e come ricorrere ad incentivi per la risoluzione. Un'altra voce in uscita che rischia di essere onerosa e poco conveniente. Senza dimenticare i rientri dai prestiti. Potrebbero essere utili i calciatori che si sono fatti le ossa nella terza serie, come Elisalde e Borrelli, positiva la loro esperienza con la Juve Stabia. Da valutare anche i vari Crecco, Bocic, Bunino, Di Grazia e Celli.